Ciao a tutti, sono il maestro Alessandro Santagati e in questo video vedremo la partita tra Pavelia e Vodabianco, giocatore grande maestro Ukraino, e Ikaru Nakamura da nero, grande maestro statunitense, partita del quinto turno della World Cup 2015, giocata a Baku. Andiamo a vedere la partita, dunque il bianco gioca D4, D5, cavallo F3, cavallo F6, come vedremo questa partita si evolverà in una catalana, dopo C4, E6, G3, rientra una posizione abbastanza classica, sostanzialmente la partita dopo Alfiere 7 e Alfiere G2 segue la linea principale della catalana. In questo tipo di schema il bianco crea pressione sul punto D5 con l'idea di valorizzare al meglio questo Alfiere. Come abbiamo visto anche in video passati, non è possibile, cioè nel senso è anche possibile prendere, tuttavia il pedone non potrà essere mantenuto, perché comunque il bianco ha vari modi per riprenderlo, di cui il più semplice è Donna 4 scacco, con cui dopo Alfiere D7 il pedone viene subito ripreso. Dunque diciamo che può essere catturato, ma non può essere sicuramente mantenuto. Solitamente il nero sceglie di non prendere, dunque anche qui per esempio una Kamura gioca a Rocco, anche il bianco dunque si a Rocca e a questo punto D per C4. Lo scopo di questa mossa è quello di pensare adesso a pressione sul D4, in quanto si trova su una colonna 6 aperta. Donna in C2, con cui il bianco libera la casa D1 e al tempo stesso attacca il pedone in C4, e a questo punto A6. A6 che sostanzialmente ha il doppio scopo di eventualmente permettere B5 e al tempo stesso, per esempio, su donna C4 B5, donna C2, a quel punto il nero può sviluppare rapidamente l'alfiere sulla diagonale, sulla grande diagonale A8 H1. Dunque diciamo che lo scopo principale è questo, e se il bianco non prende subito il pedone, comunque dovrà fare mosse che impediscano la mossa B5, e dunque costringe il bianco a fare A4. Perché questo è una cosa, diciamo, positiva per il nero? Perché il bianco gioca da A4, è vero sì che evita B5, ma è anche vero che crea una debolezza nella casa B4. Dunque questo è chiaramente un piccolo vantaggio del nero, il fatto che B4 rimanga una casa debole. Infatti nessun pedone può difendere questa casa. Dunque l'idea è sostanzialmente questa. Dato che il nero non ha la possibilità di sviluppare il suo alfiere su B7, perché per esempio se qui giovasse B6, a quel punto il bianco potrebbe fare cavallo E5, e comunque si impedisce la mossa alfiere B7 perché subito l'alfiere punta sulla torre, e dunque questo è un problema per il nero. Non potendo sviluppare efficacemente l'alfiere su B7, una manovra tipica molto interessante è quella di giocare l'alfiere D7, con cui il nero ha l'obiettivo di piazzare l'alfiere in C6 ed eventualmente cambiarlo. Dunque il nero è giocato in alfiere D7, donna per C4, alfiere in C6, alfiere in G5 e a questo punto alfiere D5. Lo scopo di questa mossa è che l'alfiere sostanzialmente ha l'unico interesse di mantenersi su questa diagonale. Tutoriale, siccome la colonna C è importante, e la donna di C4 è piazzata abbastanza bene puntando anche su C7, il nero con questa manovra mira a peggiorare la posizione della donna avversaria, infatti dopo donna C2 alfiere D4 costringe il bianco o a ripetere le mosse, o in qualche modo ad andare su una casa meno favorevole che C1. E' logicamente meno favorevole perché in C1 poteva andare per esempio una torre, dunque sarebbe stato meglio questo per il bianco, e se il bianco andasse non solo in C3, allora su C3 magari sarebbe stato meglio avere un cavallo, e in più il nero potrebbe guadagnare tempo attaccando ancora una volta la donna ad un cavallo D5. Dunque il bianco lo gioca donna C1, e a questo punto H6. Alfiere per, alfiere per F6, torre D1. Torre D1, la torre attacca la GX la donna, e in più la torre si porta su una colonna a segna aperta, e importante per difendere il perone D4, che è un oggetto dell'attacco del nero. A questo punto il nero gioca A5, che mira a fissare dunque la debolezza che dicevamo sulla casa B4. Infatti adesso il cavallo potrebbe entrare su B4 in futuro in maniera abbastanza efficace. Cavallo BD2, dunque il bianco ha completo il suo sviluppo, mantenendo libera la colonna C, e a questo punto alfiere H7. Questa mossa va bene, però ha dei lati positivi e negativi, perché con alfiere H7 in qualche modo questi alfiere giocano ben insieme, creando davvero una grandissima attività su queste due diagonali, però al tempo stesso il nero rinuncia a questa importante diagonale, che poi come vedremo sarà molto importante in questa partita. Diciamo che avere questa diagonale libera per il bianco può permettere al bianco di creare diverse insidie. Ora il bianco gioca dunque il cavallo B3, che è una mossa del tutto logica. Il cavallo in due è in una casa intermedia, deve chiaramente il bianco migliorare la posizione del suo cavallo, e la casa C5 sembra una casa ideale, perché lavora bene attaccando anche il B7 con alfiere sul fianchietto. Il nero dunque gioca a C6, per rendere meglio e infilace questo attacco, donna in C3, quella donna cerca di trovare una casa migliore su cui giocare, anche pressando sul pd5, in qualche modo questa mossa limita il movimento di toro e donna. Alfiere 7, con l'idea di prendere la casa B4, cavallo in C5, e a questo punto donna in C7. Cavalli in C5, dunque il bianco migliora ancora di più sui cavalli, cavallo a C6. Ora qui ci troviamo proprio alla mossa decisiva, una delle mosse chiave di questa partita. La posizione è abbastanza equilibrata, però come vedremo la mossa giocata da Eliano qui porta ad una posizione superiore per il bianco, che poi gli permetterà proprio di vincere la partita. La mossa è cavallo per B7. Una mossa molto difficile, perché? Perché è una manovra che porta il cambio di due pezzi, in questo caso cavallo e alfiere, per due pedoni e la torre. Dunque in teoria è un cambio di 6 punti contro 7, però sappiamo bene che di solito i due pezzi giocano abbastanza bene. Dunque Eliano per fare questo cambio ha dovuto calcolare che, nonostante qui c'è da due pezzi, per torre e due pedoni, il bianco poi comunque ottiene una buona posizione di finale, che è riuscito infine a finalizzare. Infatti dopo cavallo per B7 la variante è abbastanza forzata, il nero deve per forza prendere il cavallo, alfiere per C6 e la donna deve andare via. Dunque C7, alfiere per A8, donna per C3. E dopo questo cambio, il bianco deve anche vedere l'importante mossa cavallo C6, perché? Perché questo finale si rivelerà davvero efficace per il bianco, eliminando la coppia di alfieri che il nero ha. Teoricamente può evitare, diciamo, di non perdere la coppia di alfieri, ma questo avrebbe il costo comunque di un pedone, perché il bianco potrebbe mangiare in A5. Dunque se il nero vuole mantenere i pedoni deve fare alfiere D8, come poi ha giocato qui Nakamura, però giocando alfiere D8 permette il cambio e questo finale adesso è abbastanza favorevole per il bianco, perché senza la coppia di alfieri sarà difficile bloccare questi pedoni. Andiamo avanti. F3. F3 è una mossa molto importante, diciamo siamo in un finale dove in qualche modo il bianco deve cercare di migliorare i suoi pezzi e come vediamo c'è un'unica colonna aperta. Colonna aperta su cui il bianco non può avere il possesso, almeno immediato perché l'alfieri in H7 copre l'importante casa B1. Dunque non ha mossa per prendere la colonna e allora risulta logico per il bianco pensare al miglioramento della posizione del re per il momento, dunque F3 può essere molto utile in questo. Il nero dunque gioca torre C8, pressando sul pedone C3, il bianco deve difendere il pedone e dunque gioca torre A3, alfiere G6, ref2. Dunque il bianco continua migliorando la posizione del re, torre B8 prendendo possesso della colonna aperta, anche se qui il bianco avendo due tori ha tutta la possibilità di bloccare il gioco della torre avversaria sulla linea terza e sulla seconda, lasciando la prima traversa libera, ma comunque senza che il nero possa fare grandi cose. A questo punto il nero gioca F6 con l'idea anche di cercare di mettere in gioco il proprio re, torre A2, con l'idea molto semplice di permettere torre B2, di prendere la colonna, torre B3 che mira ad attaccare C3, dunque a rendere in qualche modo mai inefficace torre B2. Qui nonostante tutto il bianco gioca torre B2, questa è una mossa importantissima, perché è importante in questo finale che il bianco abbia le sue torre attive e torre B2 è la mossa chiave, perché? Perché in realtà perde per il momento del torre C3, ma cosa ottiene in cambio? La sua torre diventa attiva e potrà prendere il pedone A5, che è un pedone importante perché permette al bianco di avere il pedone passato A4 dopo questo, e dunque questa è sicuramente una mossa chiave, torre B2 del bianco, un'ottima mossa, gioca da qui da Elianov, il nero prende, torre B5, e a questo punto al fiere C2. Il nero tenta di rifarsi su A4 perché questo è un pedone molto pericoloso, diciamo che se il nero prende A4 ha davvero ottime chance di poter pareggiore la partita, tutelatore per A5, attacca anche il cavallo, deve muoverlo, e a questo punto torre A7. Il bianco guadagna i tempi, e riuscirà, come vediamo, grazie a questo guadagno di tempi, a difendere il pedone A5 e poi a valorizzare al meglio. Rek7, la torre su A7 ha davvero un ruolo importante perché coprendo, coprendo diciamo la settima traversa, limita fortemente il gioco del nero. Torre B7 che ha lo scopo di liberare eventualmente la strada per il pedone, qui il nero è un po' bloccato perché ha i pezzi legati, e la torre deve difendere sia C2 che C6, dunque i suoi pezzi non giocano molto bene. Torre C4, torre B6, con l'idea di permettere la spinta A6. A questo punto, il nero cerca di sbloccare un po' i pezzi con il filo A4, però il bianco riesce a spingere A6, e a questo punto, dopo A7, la posizione si fa molto problematica, perché il nero ha problemi a fermare il pedone, anche perché i suoi pezzi sono molto legati, perché per esempio l'alfiere è attaccato alla torre, la torre difende l'alfiere, dunque non ha una semplicità di gioco. L'alfiere D5 cercando un po' di sbloccare i pezzi, torre A2, torre per D4 attaccando di scoperta, la torre in A2, ma dopo torre C2, la posizione si fa critica, perché la torre attacca il cavallo, il cavallo deve per forza andare su A8, e poi con una manovra abbastanza interessante, con torre A6, e in seguito con l'avanzamento del re, il bianco piano piano otterrà del vantaggio. Ora qui qual è il punto? Il punto è che sostanzialmente, il bianco ha una posizione dominante, perché questo pedone può essere bloccato dal nero, perché come vediamo, questi pezzi sono difficili da eliminare dal bianco, però è anche vero che per evitare la promozione, il nero ha sostanzialmente i suoi pezzi totalmente passivi, cioè bloccati solo a quello scopo. Siccome questa è una posizione ancora dinamica, dove il bianco può raggiungere due scopi, o permettere la promozione, o andare ad attaccare il re, questo elemento dei pezzi del nero bloccati, diventerà poi decisivo come vediamo. Torre g1, il re va su f4 difendendo il pedone, ma al tempo stesso avendo anche chance di attacco, torre g2, torre d6. L'idea è quella di permettere eventualmente di promuovere, dunque anche di poter prendere due pezzi per la promozione, o semplicemente di promuovere e basta, che chiaramente è meglio. Torre g1 per avere la possibilità di eventualmente bloccare la promozione del pedone, e a questo punto torre c8. La minaccia è seria, si minaccia torre per d5 e torre per a8, dunque bisogna stare attenti. Questa mossa è importante, perché adesso se giocassi il bianco torre per d5, diciamo che il bianco qui dovrebbe vincere il finale, però deve stare diciamo abbastanza attento. Forse torre per d5, il nero dovrebbe poter giocare cavallo b6, e in seguito promuovere a donna, cavallo per d5 scacco, e a questo punto, re g5, torre per, e probabilmente anche questo finale è vinto per il bianco, dunque in realtà, torre per d5 poteva essere gioco dal bianco, però il bianco ha preferito giocare a re g5, con lo scuola di andare direttamente a pensare al matto sostanzialmente, visto che anche se torre per d5 era comunque vincente, minacciare matto lo era ancora di più, il gucchigliano va giocando davvero molto bene, in maniera molto precisa, torre per a7, sarebbe il fio del bianco il pedone, però adesso arriva la minaccia di matto, g6, e a questo punto il bianco può dare direttamente matto, che può giocare all'f6, seguita da torre h8, e il matto è sostanzialmente imparabile, ora non so bene se qui Elianov non abbia visto questa mossa, però è sicuro che non l'abbia giocata, dunque ho avuto una svista, o magari ci sono dei motivi che noi non sappiamo, comunque anziché dare matto subito gioco torre h8 scacco, che è comunque vincente, dunque non è che cambia molto al livello di sostanza, re g7, torre cg8, a questo punto torre per g6, la posizione è chiaramente vincente, perché dopo torre h7 e f8, cadono tutti i pedoni, e non ha sostanzialmente il nero un controgioco, infatti dopo poi, possiamo vedere velocemente le mosse, dopo cavallo d6, torre f6 scacco, e torre d7, il nero qui decide di abbandonare, perché non c'è alcuna possibilità per il nero, di bloccare il pedone, che va facilmente a donna, e al tempo stesso il nero deve stare attento anche a levare i minacci di matto, dunque Yanov vince questa importantissima partita contro Nakamura, e riesce anche ad eliminare Nakamura nel quinto turno della World Cup, vi ringrazio dell'attenzione, per questo video è tutto, vi do appuntamento per il prossimo, grazie e alla prossima. Ricorda di seguirmi sui social networks, e di condividere il video, grazie. 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 Grazie.